Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sempre verso Firenze veicolo in fiamme al km 67 tra il bivio con raccordo Lucca-Viareggio e Lucca-Est. In Filippili in direzione Firenze e code a tratti tra Ginestra-Fiorentina e Firenze-Scandici, spostandoci sulla statale 1 Aurelia rallentamenti per lavori tra Follonica Nord e Venturina in direzione Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per lavori tra Firenze in Pruneta e San Casciano in Val di Pesa in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze e buon viaggio. Grazie Grazie Grazie